Questa sera, per una volta tanto, per metterlo, giochiamo in casa, abbiamo uno dei nostri due registi, entrambi bravissimi, questo è Davide, l'altro che è il regia è Lorenzo. E lo dobbiamo perché non parliamo di regia televisiva, per carità, né di riprese, bensì vediamo se possiamo mandare prima di parlare un'immagine delle tante che abbiamo, una specie di mostro marino, dice che però ci sono le balene che ingoiano le persone e poi allora vedete questo signore qua, che è Davide, che è in sulla sua barca, in pieno Mediterraneo, a che distanza sei dalla costa qua? Ma circa 4-5 miglia. A 4-5 miglia che fra poco, vedete, prenderà una belva, perché dice ma che cosa ci distranno nel fatto che un pescatore prenda un pesce che poi addirittura deve passare in televisione? Innanzitutto appena vedete il pesce capirete perché, due perché il tipo di pesce, non tanto le dimensioni, le dimensioni sono legate al tipo di pesce e poi perché Davide, cosa che sapete, ne abbiamo parlato più una volta, ecco la specie di mostro, questo cos'è una ricciola, perché Davide è anche un giudice ufficiale, ma anche un componente dell'Eblia Fishing, uno di quei signori che fa pesca sportiva a livello agonistico, campionati provinciali, campionati regionali, eccetera, eccetera. Allora Davide, perché, qua sembra ancora più mostruoso, al di là del fatto di quanto ti sarà comprato costarlo, lasciamolo perdere perché poi la gente poi non è il giusto fargli sapere quanto costa, diciamo, realmente, perché è particolare, è abbastanza, diciamo così inconsueto che si prenda una ricciola di queste dimensioni? Beh, diciamo che non si pescano tutti i giorni ricciole di 35 chili, quindi già siamo su una pezzatura, diciamo, abbastanza… Ma perché non sono così grosse? Perché proprio la ricciola non va altro? Perché non c'è il passaggio o altro? Diciamo che normalmente dalle nostre parti si pescano tra i 10-15 chili, che sono comunque dei pesci interessanti, molto divertenti anche da pescare, buoni anche da mangiare, però ogni tanto può uscire anche qualche cattura, diciamo, che va un po' oltre il normale peso e infatti poi la gioia è tanta quando succede questo. Certo, la battaglia tipo il vecchio e il mare quant'è durata? Eh, siamo qui sui 45-50 minuti di pura adrenalina. Ecco, tu hai sicuramente un'ottima attrezzatura e mi hai spiegato che se fosse stato un tonno non avresti potuto prenderla con la stessa attrezzatura, perché? Perché è stata pescata con un'attrezzatura ultraleggera, una 6-12 libbre come Cannata Pesca e quindi... Quindi ha una certa quantità di carico possibile. Di carico, esatto, esatto. Quindi abbiamo spinto un po' l'attrezzatura quasi al limite. Quasi al limite. Senti un po', a proposito dei tonni, tu mi dicevi che c'è, questo lo sappiamo un po' tutti, ma tu ti hai detto ai lavori, nella nostra zona, che è proprio il centro del Mediterraneo, ci sono vari periodi di passata di pesce. Fra poco, se non è già ora, ci sono i tonni. Perché dopo non si trovano più? Diciamo che è una specie che si trova anche durante l'anno, però in particolar modo, siccome siamo prossimi ormai al periodo di riproduzione, e quindi è più facile fare degli incontri anche ravvicinati con questo tipo di pesce e diciamo che la pesca al tonno si è aperta, la pesca al tonno rosso, che è regolamentata, si è aperta proprio il giorno 16 giugno, c'è bisogno del permesso, eccetera, quindi è tutto regolamentato. Ma la media dei tonnetti che si prendono, su che peso oscilla? Ma sono stati presi anche dei tonni di 200 kg, 150-200 kg. A un pescatore quando si ritiene soddisfatto, un pescatore con 80 kg? Diciamo che è quello, la pesca al tonno rosso, diciamo che è la pesca al re dei mari, per quanto ci riguarda, prendere un tonno che possiamo affermare di essere all'apice della carriera. Senti un po', ma è un periodo anche di passaggio di altri pesci questo qua? Sì, questo è il periodo delle ricciole, ma anche dei dentici, delle cernie, sì. Ma scusami, le seppie passano pure ora? Le seppie iniziano un po' prima, marzo, aprile. Ma come si pescano le seppie? C'è una tecnica particolare, anche con la canna da pesca, sì. Io ero convinto che ci fossero le nasse, troppo simile. No, 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 anche con la canna da pesca si possono pescare. E sono difficili? Eh, diciamo che è una pesca meno impegnativa, ecco. Allora, prima di passare al lato, e facendo complimenti ancora, possiamo ancora farlo rivedere, questa super ricciola, meritavo di darle un nome. Prima di passare al lato proprio pesca sportiva, volevo ancora dire una cosa, con te ne parlavamo l'altra volta, mi dicevi sempre di stare molto attenti alla distanza a cui si va, perché oltre un certo limite passano le grosse navi e le grosse navi non usano molto vedere le barchette. Sì, 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 questo è anche vero. Poi soprattutto di notte il pericolo è enorme, ma anche di giorno. Bisogna tenere gli occhi aperti, è importante perché chiaramente gli altri anche lavorano e quindi noi andiamo là per passare del tempo. Bisogna scongiurare, diciamo, eventuali incidenti e operare al massimo della sicurezza. Quindi poi tu sempre le attrezzature di sicurezza. Assolutamente sì, la prima cosa che io tengo in barca è quella, poi saliamo noi. E comunque non andare oltre le 6-7 miglia, insomma. Sì, a volte si può anche andare, bisogna essere equipaggiati per poter affrontare… E poi sapere che al minimo accenno di pericolo, provare a rientrare, è caso mai. Assolutamente sì. E soprattutto non forzare mai il rapporto col mare perché il mare ti lascia scorsare ma non perdona. Il mare va rispettato, va sempre, come dire, tenuto sotto controllo e alla minima avvisaglia bisogna subito rientrare. Provare a rientrare. Sì, sì, è un po' particolare. Bene, allora, questo è il pescatore, diciamo così, d'altura. Il pescatore, il giudice e l'agonista della pesca sportiva, normalmente tra l'altro quando pesca, negli ultimi tempi soprattutto tu mi pare che sei un favotore, tra l'altro credo che proprio sia una cosa della cosa ti occupi, viaggia con una specie di affarino che chiama il panieri, che è una cosa, vuol dire che avere tutto a portata di mano. Sì, perché vedi la pesca sportiva poi intrapresa anche a livello agonistico, prevede l'utilizzo di attrezzature molto complesse, non è semplice andare a pescare con la canna da pesca, eccetera, ma si utilizzano delle attrezzature davvero al massimo della tecnologia, quindi in particolare io sono stato coinvolto in questo progetto di MK4 per esempio, che sono stato pro staff MK4, un'importante azienda nazionale che produce quello che state vedendo, i panieri, sì, sì, siamo qui in situazioni di massima tecnologia, assolutamente sì, bisogna avere tutto sotto controllo, l'esca, la pastura, la canna da pesca, i vari punti d'appoggio. Questo agevola anche il trasporto ovviamente. Insomma, il trasporto sì, anche perché si possono montare le ruote, insomma siamo su materiali molto tecnologici, leggeri. E più o meno che costo hanno di media? Eh, costano, costano. Ma più o meno quanto? Sì, partiamo dalle 500-600 euro in su, anche 1000, 1500. Quindi sono un po' come le macchine, ci puoi aggiungere cose? Sì, 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 esattamente, esattamente. Le puoi personalizzare? Sì, sì, esattamente, questo è un'importante appuntizzazione. Comunque diciamo che con un migliaio di euro ha un'attrezzatura di alto libro. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare Luigi Covato che mi ha dato questa possibilità insieme a Carmelo Libro di Adrenalina Pesca che hanno fatto, hanno reso possibile questo piccolo sogno, diciamo. Perfetto. Allora, la pesca sportiva ha subito, come tutti gli sport, pur non essendo uno sport di contatto e pur essendo uno sport che si fa all'aperto, i problemi legati al Covid, alla pandemia, ma adesso lentamente sta riprendendo. Qual è la situazione allo stato attuale e quali sono le attività agonistiche principali in programma? Allora, attualmente abbiamo qualche spiraglio di riapertura, di ripartenza anche per quanto riguarda la pesca sportiva, già sono riprese le gare provinciali di surf casting, pesca dalla spiaggia, sono riprese le gare di canna d'arriva che è quella tecnica che si può svolgere, diciamo che si svolge prevalentemente su aree portuali, da scogliere e così via, e a breve ripartirà anche il provinciale che è il provinciale di Escalcolpo alla diga di Santa Rosalia, ma forse anche in un altro invaso. Scusa, una domanda, ma com'è la situazione alla diga? La diga so che i ragazzi della FIPSAS, della Vigilanza, stanno facendo veramente un ottimo lavoro ultimamente, so che c'è un progetto in corso di controllo del territorio e sicuramente da ammirare perché tengono sotto controllo tutte le varie. Quanto a acqua, quanta ce n'è? Questo è un problema perché quest'anno la situazione è abbastanza critica, ha più avuto poco e di conseguenza la diga è molto bassa, ovviamente questo non impedisce del tutto di andare a pescare, però bisogna porre in essere dei comportamenti corretti anche da parte dalle altre persone perché potrebbe diventare, tra virgolette, più semplice pescare del pesce e quindi più pericoloso per l'ecosistema. Più pericoloso anche e soprattutto per il bracconaggio, per questo ci sono i ragazzi della FIPSAS che fanno davvero un ottimo lavoro. E allora Davide, andiamo a chiudere, noi ne abbiamo parlato più di una volta, abbiamo avuto qua i massimi espronenti provinciali, ripeto tu sei anche un giudice, tutti gli effetti i ragusani e quelli della provincia hanno partecipato e partecipano nei regionali spesso. Esatto. Allora domanda, il signor Rossi, io che decidesse domani mattina di volere fare, avvicinarmi al mondo della pesca sportiva però rispettando tutte le regole, con tutti i clima, chi avrei come referente qua in questa città? Ma sicuramente c'è da dire che bisogna affidarsi a una delle associazioni che operano nel settore dove praticamente verrebbe spiegato poi quali sono le regole, perché ogni tecnica praticamente ha il suo regolamento con delle regole particolari da conoscere per poter affrontare poi le varie gare. E poi ognuno di voi quando partecipa a un tesserino, no? Abbiamo il tesserino, siamo tesserati, sì assolutamente sì. Ci sono regolamenti, ci sono assicurazioni, c'è tutto quanto. Sì, esattamente. Allora, è la prima gara importante, la gara importante a più breve scadenza qual è? A breve scadenza per quanto mi riguarda è il provinciale di Pescalcolpo che si terrà il 27 giugno, la prima gara, poi sono quattro gare quindi se ne sono due a luglio. Tra la diga di Santa Rosalia è l'invaso di Mazzarronello, ecco ancora abbiamo la… È il provinciale di Ragusa Mazzarronello? Sì, sì, anche sì. È più piccolo della diga? Eh, diciamo che è una sorta di quello che noi chiamiamo carpodromo. Che bello! Un po' particolare. Mi piace il carpodromo. Benissimo. Allora, Davide Criccione, il tra virgolette responsabile della cattura di quella ricciola, quanto pesava? 35 kg. 35 kg. È una bella bestia, 35 kg di ricciola, colpo fortunato ma sicuramente ci vuole anche l'abilità, la passione, la capacità di sapere cosa bisogna fare, ma anche Davide Criccione come componente… Devo dire che mi ha aiutato anche mio cugino Antonio Modica che era in barca con me, eccolo qua, esatto. Anche perché qualcuno questa foto deve averla pure fatta. Eh sì, esatto, sì, sì, infatti, poi siamo stati molto contenti insomma di questa. Eh, direi proprio così. Ma l'avete già tagliata? Eh, l'abbiamo sistemata, sì, adesso deve essere abbattuta e poi potrà essere consumata. Perché vanno abbattuti questi? Eh, sì, preferibilmente… Meglio abbattuti, perfetto. Allora, Davide poi, ripeto, è un esponente del mondo generale della pesca sportiva, lui è della società Iblea Fishing, ma ne esistono anche altre, tutte varie, tutte meritevoli, ci sono campionati, i regolamenti sono ferri, vi assicuro, li ho visti più di una volta a fare gare e c'è un agonismo incredibile, ci può essere agonismo, c'è agonismo e la cosa bella è che il pesce viene preso pesato e immediatamente rigettato in acqua. Perfetto. Per questo la pesca sportiva, non la pesca alla ricciola, nel caso il pesce viene felicemente mangiato nelle varie forme, invece qua il pesce è soltanto a livello agonista, si cerca anche di fargli il meno male possibile con l'amo e tutto quanto, e vi assicuro che lui è un giudice ufficiale a livello di federazione, poi è una federazione che è associata al CONI, sono di una piglioleria, di una pressione terribile nel rispetto dell'agonismo di mettere tutti nelle stesse condizioni, ma anche e soprattutto nel rispetto di questo pianeta che è l'unico che abbiamo, quindi dobbiamo cercare di trattarlo bene. E il mare, se c'è una cosa che in questo pianeta andrebbe rispettato meglio di tutti è proprio il mare, noi invece lo usiamo spesso come discarica e credetemi che il mare prima o poi ce la farà pagare, già lo sta facendo, ma vi assicuro che il mare quando la fa pagare, lo decide lui quando, ma quando pesta, pesta, che fa male, male assai. Davide, grazie moltissimo, noi prima di chiudere vi annuncio l'appuntamento con i due minuti non di più, sono pillole di sport riguardo al consueto notiziario giornaliero di Italpress con Italo Cucchi, che come sapete è particolarmente interessante. Grazie ancora Davide, buonasera a tutti.